Questo è l'atrio centrale, da noi utilizzato come salone per le conferenze, qui vengono accolti gli alunni il primo giorno di scuola, ma viene utilizzato durante tutto l'anno scolastico per eventi e manifestazioni, manifestazioni quali il giorno della memoria, il giorno dei diritti dei bambini e qualsiasi altra manifestazione che si organizza durante l'intero anno scolastico. Grazie.